200 maschere barocchie nel borgo medievale Aretino di Castiglion Fibocchi. Torna così il Carnevale dei figli di Bocco che nel 2023 festeggia la sua 26esima edizione. Si parte sabato 4 febbraio con Aspettando i figli di Bocco. Si prosegue poi domenica 5 e sabato 11 con la chiusura prevista domenica 12 febbraio con il tradizionale corteo che percorrerà le vie del centro storico, 4 giornate di sfilate e divertimento per una festa dal sapore veneziano. Assolutamente sì, i castiglionesi sono pronti, gli ultimi ritocchi per dare inizio al Gran Carnevale dei figli di Bocco. Domenica 5 e domenica 12 aspettiamo tutti i visitatori. Il Carnevale dei figli di Bocco è dedicato quest'anno a Pietro Vannucci, detto il perugino, a 500 anni dalla sua scomparsa, ma non solo Carnevale, e tanti gli eventi in calendario per queste 4 giornate di magia senza tempo per le strade di Castiglion-Fibocchi. Torna anche il concorso fotografico. Invito tutti gli appassionati di fotografia di venire al Carnevale dei figli di Bocco e di partecipare al concorso fotografico. Verrà svelato l'argomento quindi di quest'anno e tutti possono veramente partecipare e tentare di vincere uno dei primi tre premi.